Musica Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video Scusate se la volta scorsa non ho caricato nessun video però se qualcuno ha visto la mia storia di Youtube o comunque le mie storie di Instagram sa che ho passato un periodo un po' strano un po' una mezza crisi e quindi non ho fatto assolutamente niente infatti non sono nemmeno andata a montare oggi dopo 5 giorni alla fine sto andando a montare solo Novara perché vi spiego un po' ho fatto la gara e non sentivo Novara proprio in top forma infatti ieri abbiamo cominciato delle sedute dal massaggiatore infatti ha detto anche che è molto rigida quello che mi sentivo e ha anche detto, questo è il veterinario però che ha i denti da fare quindi il consiglio è stato di montare Novara fin quando non viene... che nebbia! fin quando non viene il dentista di montare Novara senza imboccatura però io ho una testiera senza imboccatura la Beatless non ce l'ho quindi ho i... come si chiama? ho l'Acmore che non è... è un'imboccatura però non ha un contatto diretto in bocca quindi ho deciso di portarvi un vlog così di una giornata in cui monto Novara con questa imboccatura con cui non l'ho mai montata per cui potrei cadere, potrebbe scapparmi potrebbe fare qualsiasi cosa voi lo vedete in diretta con me quindi andiamo nel mio sgabuzzino dove ho tutte le cose del cavallo e andiamo a prendere la testiera ovviamente come in ogni video devo farvi vedere il mio cuci bello che non può venire perché fa troppo freddo sembri una palla di neve una palla di neve oh vita mia adesso devo fare anche colazione che colazione che bel petto che bel petto andiamo 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 dai andiamo a prendere c'è un sacco di nebbia infatti dovevo andare in maneggio un'ora fa ma mia mamma mi ha detto che c'è troppa nebbia dovevo spettare ok allora ho spettato e il mio sgabuzzino non lo so è molto disordinato perché ho liberato l'altro terrazzo e mia mamma mi ha fatto infognare tutto qua mi ha detto poi ti aiuto poi ti aiuto invece è tutto qua di nuovo io sexy con le ciabatte allora la testiera è questa qui ce l'ho già montata e soprattutto ce l'ho perché lo usavo con Angelique e l'imboccatura appunto vi dicevo che è questa qui come vedete non c'è motivo cioè non c'è modo che vada in bocca c'è solo questo che gli va sul naso vediamo che cosa succede le redini potrei metterle ma queste mi stanno scomode per cui vado in maneggio e metto quelle che ho già sull'altra testiera non fumo eh è solo il freddo non mi preoccupate allora vi spiego praticamente praticamente i letto a testiera no ecco e questi devono rimanere così e io ho la bocca è così ok imbarazzante vado a fare colazione e poi partiamo per andare in maneggio sono una cieca mala ciao piccolina oggi ti monto dopo un po' cerco di non buttarmi giù anche se si carica vieni dai vaccino dai vaccino lo apprezzo lo apprezzo ciao dai adesso ti scello è impassibile sembra una statuina un po' lunga uno due ho fatto due o tre proviamo da un cinturino vado a prendere un altro aspetta vediamo soprattutto se è montato in modo giusto adesso vediamo quando la monto andiamo a prendere un po' è fermato allora dato che ieri ha fatto questo massaggio oggi è giornata relax solo passo a me questi imboccatura piace piace no marina se ti va bene andiamo in gara con questa imboccatura ciao è proprio bella la facciamo oro rosa vieni qua gira gira che brava gira ancora 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 bravo allora dato che l'educatore era già fuori l'ho provata anche su g vediamo che cosa succede almeno con lui troppo i galoppo anche iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale andiamo a metterlo andiamo a metterlo ciao 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 ciao